Il sì convinto a Draghi mette in difficoltà PD e in parte M5S. E così si intesta la leadership del centrodestra nell'operazione sottraendola a Silvio Berlusconi. Non è il momento dei no. Dalla Lega o un sì convinto o nulla. Non chiederemo posti. Decide Draghi. Forse nemmeno nelle più rose aspettative del Quirinale l'adesione della Lega alla scelta di Mario Draghi poteva essere più totale. Matteo Salvini esce da una mezz'ora di confronto con il presidente incaricato ribaltando qualunque tipo di voce che lo dava per scettico. Costretto al via libera dalle pressioni del mondo produttivo che guarda la Lega. Da alcuni governatori del Nord. Da Giancarlo Giorgetti. Se per convinzione o per tattica. Rimane il fatto che la svolta salviniana sulla via di Draghi è stato il dato veramente nuovo di una giornata politica che ha visto anche la conversione di Beppe Grillo davanti all'ex presidente della BCE. Per un'altra giravolta che al contrario si era capita da alcuni giorni. Perché mai Salvini aveva posto Vetti a Draghi. Ma mai nemmeno si era spinto fino al. Siamo a disposizione. O al. Non poniamo Vetti. Parlando di. Una mezz'ora di confronto interessante e stimolante sull'idea di Italia che per diversi aspetti coincide. La mossa di Salvini spariglia il campo. Legittima la Lega nel campo delle forze responsabili. Si intesta la leadership del centrodestra nell'operazione sottraendola a Silvio Berlusconi. Spariglia il campo nella fu maggioranza giallorossa. E intesta al carroccio un posto tra le forze che si troveranno a gestire il recovery plan. E che saranno sedute sui posti di governo quando arriverà la tanto annunciata quanto agognata ripresa attesa tra la seconda metà di quest'anno al 2022. Senza contare un posto al tavolo quando si tratterà di decidere il successore di Sergio Mattarella.